La Polizia Municipale è stata colpita direttamente da tutto quello che sta accadendo, vi dico subito che mi sono un po' rotto, mi perdonete il termine, le scatole di aspettare gli esiti dei tamponi pubblici, abbiamo tolto gli indugi, abbiamo finanziato direttamente con fondi comunali, almeno quello riusciamo a farlo da soli, tutti i tamponi per tutti gli agenti della Polizia Municipale per sbloccare anche la situazione in cui ci siamo ritrovati con il nostro corpo di Polizia Municipale. I contagi abitanti in questo momento certificati sono 25 e un numero elevato, apparentemente contenuto dal fatto che di queste 25 persone, 15 persone vivono in unità abitative diverse. L'utilizzo della mascherina va assolutamente inteso come un abbigliamento essenziale. A seguito di una giusta e condivisibile comunicazione da parte dei dirigenti richiesta, da parte dei dirigenti scolastici, ho deciso di accogliere la loro richiesta e l'apertura delle scuole comunali, quindi parliamo di scuole dell'infanzia, di scuole elementari, scuole medie, tanto per intenderci, e rinviata al 28 settembre. Come sapete i seggi elettorali verranno utilizzati, come al solito, diversi istituti scolastici e quindi ci sarà necessità poi di procedere da parte del Comune alle opere di disinfestazione necessaria, ma in ogni caso anche all'arrivo degli arredi. Pensate che il Comune ha acquistato più di 1300 banchi monouso e più di 400 nuovi armadi, il tutto per cercare di arrivare all'appuntamento dell'apertura delle scuole nel modo più corretto possibile, almeno da un punto di vista da quello che ci compete delle allestimenti. Abbiamo raddoppiato l'utilizzo, i mezzi scuola-bus a disposizione proprio per venire incontro al distanziamento fisico maggiore, però devo anche con grande onestà manifestare la mia preoccupazione per il fatto che il 28 settembre, quando si tornerà a scuola, dobbiamo necessariamente porre a carico delle famiglie, perché non ci sono altri mezzi messi a disposizione dallo Stato, il controllo della temperatura corporea dei bambini. Sappiate che i dirigenti scolastici con altrettante condivisibile preoccupazione stanno in più, stanno decidendo addirittura di non utilizzare le palestre, ma poi c'è anche il problema della mensa. La mia solidarietà agli insegnanti delle scuole primarie che con ogni probabilità non riusciranno a mantenere la distanza fisica dei bambini per mantenere il distanziamento, perché sono pochi rispetto alle classi formate. Vi devo dire che una persona ha perso la vita anche con la seconda ondata dei contagi, residente a Bitonto. Per quanto riguarda le scuole superiori non è mia competenza, è competenza del comune, le scuole superiori comunque stanno iniziando, inizieranno nel periodo previsto e credo che per le scuole superiori ovviamente sia più semplice che i nostri ragazzi, in partire, diciamo, far comprendere ai nostri ragazzi la necessità di mantenere le distanze fisiche e le mascherine.